e non sono neanche io, ma è l'altro, i sindaci, non poteva attivare quel 7%. Quindi la polemica che è nata in Italia su questo argomento è incontruita in maniera malevola su un'informazione del tutto destituita di qualunque fondamento. Ieri, chi ha scritto concretamente le tariffe, chi ha definito nel 2009 le tariffe, a cominciare dal sindaco di Barimiliano, ha, diciamo così, riconosciuto che non si può tagliare ciò che non esiste, da noi il 7% non esiste. E ma però è tagliato. Ancora un paio di domande, Massimo.